Non è stato facile realizzarlo, è stato un percorso complesso, tra l'altro grazie anche alla BOTI, lo dico perché l'ho vista prima, perché il progetto poi nasce con un progetto di bianca film nel quale noi siamo subentrati, poi siamo diventati maggioritari, quindi c'è stata una gestazione produttiva complessa. Noi l'abbiamo realizzato, abbiamo cercato di produrlo semplicemente su un'idea semplice. Io avevo veduto su segnalazione di Anastasia che si occupa da noi, della dottoressa Michelagno, e lo sviluppo, avevo visto la spettatrice, mi era piaciuto moltissimo, mi è rimasto molto molto colpito. Ho letto la sceneggiatura di Franchi e noi abbiamo chiesto a Franchi se, in qualche modo, visto anche il rapporto che c'era con la BOTI, avessimo, è stata un'iniziativa nostra a chiedere a Franchi di produrre il film, lo dico francamente, eravamo molto colpiti, anche per ragioni, se volete, personali che attengono la storia personale di un produttore, legge quella storia, ciascuno di noi crede che nella vita possa riconoscere dei pezzi nel film e quindi abbiamo deciso di tentare di produrlo. Poi il percorso produttivo è stato molto complesso perché è un film che nasce come un piccolo film che poi invece è un film che ha un costo interessante, costico, non così ridotto. Quindi l'abbiamo realizzato mettendo assieme in un paese che è radicalmente spaccato su tutto, siamo riusciti, io questo poi lo dico e mi ha fatto molto crescere, siamo riusciti a mettere assieme due parti che in qualche modo sono assolutamente concorrenti sul mercato, noi veniamo dalla TV, lavoriamo molto con la TV, sappiamo che i film si fanno col concorso di chi fa la TV, se no non si realizzano. Insomma, grazie a CEO, una volta che il Ministero aveva ritenuto il film in qualche modo sostenibile e finanziabile, l'abbiamo realizzata anche con il concorso di Mediaset e di Rai Cinema. Quindi, e questo mi ha fatto piacere, nel senso che c'è stata un'acquisizione di diritti, un preacquisto di diritti da parte di Mediaset e un'acquisizione di diritti da parte di Rai Cinema. Sono intervenuti anche, soprattutto, in Svizia e quindi, insomma, è una compagine complessa, in più l'ITC Movie è intervenuta anche finanziariamente in modo, diciamo, cospicchio il film, non è un'operazione semplice di trading. Quindi, la cosa che volevo dire, ma non lo dico in tono problemico, e lo dico perché è un po' così e poi, ripeto, il film è un film che aveva la sua storia, aveva il suo proprio esito. Sulla suggestione anche di Franchi e anche per il cast che Franchi ha voluto e sul quale noi abbiamo assolutamente concordato, c'era un po' l'idea di realizzare un progetto che di marca non fosse assolutamente, esquisitamente italiano, cioè non ci interessava dare una nazionalità al film. È un film di marca, secondo me, non così estrettamente nazionale. Poi, questo è stato interpretato come un tentativo evidentemente deletario e il film, lo dico perché a me è un film che piace molto, di cui vado orgoglioso, è stato anche, senza nessuna polemica, è giustamente bastonato un po' sulla scorta del carattere di Franchi, che è un carattere veramente faticosissimo, lo dico con affetto, è un talento assoluto, è stato un lavoro difficile perché lui è, come si dice, il prigioniero è un carattere esigentissimo, di grande qualità, non di grandissima qualità, lo ringrazio davanti a tutti perché mi ha fatto soffrire molto, ma è una persona di monestà intellettuale assoluta, prigioniero lui e noi tutti della sua follia, quindi non è stato facile, però lo dico con affetto, con affetto profondissima stima perché non gli ho mai attribuito in tutte le condizioni, anche le più difficili, non gli ho mai attribuito la malafede, mai, sempre il prigioniero davvero della sua fortissima onestà intellettuale. Grazie. Allora, dire in Giacobb, voglio chiedere se ha immediatamente percepito che il suo personaggio, che sulla sceneggiatura sembra di raccordo e che invece rappresenta anche una complessità pari alle altre due personalità. Quindi credo che lei sia incollante e mi chiedo se è cresciuto e quanto è cresciuto il personaggio. E poi al regista volevo chiedere due cose sulla funzione oggi della critica, senza ritornare su Venezia, ma poiché il film è stato giudicato oltre il film e questo riaccacciandomi anche alla critica per l'opera d'arte perché si è parlato di potere dell'arte, io parlerei di strapotere della critica perché l'opera d'arte sia cinematografica che letteraria e che pittorica, intanto oggi esiste, visto che non c'è più la committenza di un tempo, perché prima era sufficiente la committenza, esiste perché la critica dà corpo e visibilità all'opera d'arte. Allora, la responsabilità della critica mi pare che oggi sia venuta meno come funzione formativa, mi pare che abbia abdicato a questa funzione, si sia ridotta a mera funzione informativa che spesso si riduce ad un giudizio che è un giudizio solo di gusto e che non sottende una preparazione idonea per il ruolo. Allora, quando ho letto la sceneggiatura l'ho trovata molto complessa, molto profonda, mi ha fatto pensare forse se dovevo trovare un riferimento alla letteratura, a Dostoevsky, Kafka, un universo dove non si sa più dove siamo, che non è completamente realistico, però va nel sogno, va nell'inconscio, l'irreale. Per la mia parte avevo un po' paura di essere la moglie di un uomo che diventa depressivo e che cade nel vertigio e di essere soltanto spettatrice, passiva, come queste moglie sono molte volte rappresentate nel cinema. e ho trovato una profondezza che mi ha molto interessato. Con Paolo ho visto che tutti i personaggi avevano una profondità e che lui voleva andare nel buio, però anche nelle cose complesse. e la direzione d'attore era una cosa molto piacevole con Paolo, era un piacere. E' vero che abbiamo dovuto essere un po' coraggioso di andare in questo terreno un po' che è un terreno forse che non vogliamo conoscere troppo, ma che è la nostra debolezza, il nostro vertigio, e questo, in questa storia dobbiamo esplorare questo paesaggio che fa paura anche, però è anche di una grande creatività e forza anche, perché è la forza del mistero in cui viviamo tutto, che viviamo in un grande buio e che non sappiamo dove siamo. Allora, ho trovato in questo film un lavoro che era interessante, interessante e challenging, come si dice in inglese che è... La sfida. 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 La sfida.